Sono Silvia Di Luzio, cardiologa e specialista anche in cardiologia pediatrica e ho eseguito diversi master in medicina biointegrata e sono anche autrice di un libro che si chiama Il cuore è una porta. Mi definisco una cardiologa umanista e integrata perché l'essere umano è molto di più di un semplice corpo, di qualcosa di materiale e l'essere umano è un universo e come tale noi medici dobbiamo rispettarlo e onorarlo. Ed è talmente un universo così multidimensionale, aperto, interdipendente di un sistema biologico complesso e risonante inserito nella natura che per imparare ad analizzarlo e ad osservarlo abbiamo bisogno di strumenti. Lo strumento principale secondo me per noi medici è l'ascolto, l'ascolto delle persone che si avvicinano a noi e con grande umiltà essere in grado di percepire ciò che questo sistema cerca di dirci. Ma ultimamente grazie all'avanzamento della fisica e quindi della medicina quantistica abbiamo cominciato ad avere degli strumenti che possono aiutarci nell'analisi dell'essere umano dando a questo corpo una voce e questo strumento è l'S Drive che io consiglio vivamente perché è uno strumento che riesce ad interpretare e a dare appunto una voce a ciò che è una disarmonia che in questo momento è presente nel corpo della persona che abbiamo di fronte. Chiaramente non è uno strumento diagnostico e terapeutico è uno strumento di grandissima utilità e aiuto per i medici che poi possono portarlo nell'ambito della persona che hanno di fronte per trovare una strada insieme terapeutica mirata sulla persona quindi una medicina di precisione che in questo periodo storico sta diventando necessaria. Io ringrazio infinitamente Giorgio Terziani perché con la sua grande visione della medicina, del futuro ha anche creato questa meravigliosa scuola di epigenetica che riesce veramente a portare alla luce l'importanza dell'analisi a 360 gradi della salute e quindi un focus sulla salute più che semplicemente sulla malattia e per chi fosse interessato ad approfondire su queste informazioni c'è un meraviglioso sito che si chiama www.cellwellbeingitalia.it. Grazie 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 Grazie